L'iscrizione al corso di italiano. Permesso, posso entrare? Tocca a me? Si accomodi pure. Buongiorno, vorrei fare l'iscrizione al corso di italiano per stranieri. Certamente! Tanti studenti e studentesse imparano l'italiano qui da noi. Ha un documento d'identità con lei? Sì. Ora lo cerco nella borsa. No, mi dispiace, non ce l'ho. Non fa niente. Facciamo l'autocertificazione. Come si chiama, signorina? Quanti anni ha e qual è la sua nazionalità? Mi chiamo Eleni Dellis. Ho 23 anni e sono greca, di Atene. Scusi, Eleni si scrive così? E come Empoli. L come Livorno. E come Empoli. N come Napoli. E I come Imperia? Sì, proprio così. Ha un indirizzo qui a Perugia? Sì, via Garibaldi 5. Per decidere il costo dell'iscrizione abbiamo bisogno del suo ISE. Capisce? No? Che cos'è l'ISE? È un documento che certifica il reddito della famiglia. Insomma, più sei ricco e più paghi. Noi non siamo ricchi. Mio padre fa l'impiegato, mia madre è casalinga, mio fratello è studente e mia sorella purtroppo è disoccupata. Ci vogliono anche due foto. Me le porta domani? Sì, va bene. Ora, lei deve pagare la prima rata per ricevere a questo indirizzo la tessera della scuola. Se preferisce, può pagare tutto subito. Ma ci vuole l'ISE per decidere la somma. No, preferisco pagare a rate. Grazie. A come Ancona S come Savona S come Salerno I come Imola M come Milano I come Imola L come Livorno Assimil S come Salerno S come Salerno S come Salerno Do Ben C舒qui